Benvenuti alla Valle dei Fiori. Oggi parliamo di quelli che sono i prodotti che possono aiutarci a difendere le nostre piante dalle malattie e dagli insetti che vengono attaccati appunto in questo periodo. Allora un primo prodotto che noi siamo di solito diamo ai nostri clienti è il rame. Il rame svolge la funzione appunto di proteggere tutte le nostre piante da quelle che sono le malattie. È un prodotto vecchissimo però è un attimino un po' la soluzione di tutti quelli che sono i problemi riguardo le malattie fungine che si sviluppano soprattutto in presenza di questo forte caldo umido. Poi un altro prodotto è lo zolfo da utilizzare in presenza di macchie bianche sulle foglie che si tratta dell'oidio e dopo ovviamente ci sono anche prodotti sistemici quando ci troviamo in presenza di un forte attacco di una di queste malattie che ho menzionato. Oltre alle malattie dobbiamo difendere anche le nostre piante da quelli che sono gli insetti. Per gli insetti servono gli inseticidi. Gli inseticidi noi abbiamo inseticidi a largo spettro che possono anche in una sola azione togliere tutti gli insetti che abbiamo presenti in quel momento sulla nostra pianta. Se noi ad esempio diamo un occhio alle nostre rose in questo periodo sono attaccate soprattutto dagli afidi e da tutti quei maldetti brucchi che bucano irrimediabilmente tutte le foglie delle nostre rose defogliandole. Perciò abbiamo prodotti che si possono, possiamo fare noi a casa oppure anche per chi non ha il tempo di prepararli, abbiamo anche prodotti pronti all'uso che ci aiutano ovviamente a salvaguardare tutte quelle che sono le nostre piante. Ovviamente quando notiamo la presenza di qualche malattia o di qualche insetto non dobbiamo aspettare all'ultimo, dobbiamo intervenire immediatamente, perciò dobbiamo correre subito ai ripari. Con questo ho terminato, vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima puntata.